Buongiorno a tutti cari amici di RealPlayers, qui per voi Janmeister in diretta con questo primo numero del nuovo format New Adventure dedicato alle avventure grafiche di cui come sapete se seguite anche il nostro sito di informazione GameLegends è uno dei generi che mi appassiona di più in assoluto sono fan accanito delle avventure grafiche a partire dai vecchi bunt e clicca che si sono pian piano evoluti fino a diventare ciò che sono oggi come insomma film interattivi ma insomma non è proprio l'evoluzione dello stesso genere ma fanno parte della stessa branca oggi andremo a giocare appunto Life is Strange, Life is Strange che è uscito poco tempo fa, almeno di una settimana fa in versione retail e andiamo adesso a vedere che cosa ci mostra questo gioco, tra l'altro non l'avevo ancora giocato dunque sarà per me una novità assoluta e niente, bando alle chiacchiere dunque e andiamo live, andiamo col gioco un attimo, non so se mi sentite, vediamo un attimo se posso non so se mi sentite ragazzi, dunque ok c'è party da solo vediamo un po' se mi sentite, non so se mi sentite in ogni caso ho caduto il party, dovrebbe esserci per forza l'audio del microfono scusate per questo piccolo per questa piccola interruzione e eccoci qua ripeto, con Life is Strange per questo nuovo format dal nome New Adventure signore e signori iniziamo una nuova partita gioca episodi ovviamente questo è un gioco a episodi ah non so se posso abbassare il volume delle cuffie ok è un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore le conseguenze dell'azione e delle decisioni avranno effetto sul passato, sul presente e sul futuro scegli con cautela niente di meglio per me che amo, amo queste cose ecco, appunto bello lo stacco dal vengero , , , , , , , . . . No, 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 no. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's a lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ok, ci siamo svegliati in questa foresta nel... In mezzo... Oh mio Dio. Ha una tempesta paurosa. Guardate che roba. Ne dobbiamo raggiungere il faro per andare al sicuro. Commento più che lecido direi. Vai al faro che sei al sicuro. Questo è stato molto sorriso. Il film ha chiamato piccoli piccoli di tempo. Ma potrebbe essere parlato di fotografia, come probabilmente era. Ok, sono in classe. Tutti è caldo. Sono bene. Da luce a la scuola. Da coloro a chiaroscuro. Ora, potresti dare un esempio di un fotografo che perfettamente capturò la condizione humana? Io non dormo, e che non sembrava come un sogno. Cosa. Dianne Arbus. Ci sei, Victoria. Cosa Arbus? Perché di loro immagini di faccia di sperimenti. Ti senti come total... Guarda questa roba. Come posso mostrare questo a Mr. Jefferson? Posso sentire la classe che mi riuscano a me ora. Sì, sono svegliati con le occhi di queste madre e bambini. Lei dice che la humanità è torturata, certo? E ne è vero che è bullo. Ssssshh. Ssssshh. Appena a te stesso. Ssssshh. Non ho capito con la giornata molto. Se qualcuno guarda questo, cosa pensi? Ok questi sono i personaggi immagino Ok la ragazza che guidiamo si chiama Max And she loves Seattle She loves Seattle With the S Ok non ho molta voglia di leggere tutto comunque Abbiamo detto i messaggi Maxine Questo parla da solo I can't believe I still have this pencil case I should upgrade to the 21st century But I like it old school I do love my analog camera I should take a quick picture now I prefer Un selvig I believe Max has taken what you kids call a Selfie A don't care for a wonderful photographic tradition And Max Has a gift Of course as you all know the photo portrait Has been popular since the early 1800s Your generation was not the first to use images for Selfie expression Sorry I couldn't resist The point remains that the portraiture Has always been a vital aspect of art And photography For as long as it's been around Now Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth To the first Self portrait You're asking me Let me think You either know this Or not Max Is there anybody here Who knows their stuff Louis Daguerre was a french painter Who created daguerreotypes A process that gave portraits A sharp reflective style Like a mirror Now you're totally stuck In the retro zone Sad face Very good Victoria The Daguerreian process Brought out fine detail In people's faces Making them extremely popular From the 1800s onward Sorry Max No more selfies right now Was done by Robert Cornelius You can find out all about him In your textbook Or even Online And guys don't forget the deadline To submit a photo In the Everyday Heroes contest I'll fly out with the winner to San Francisco Where you'll be fedded by the art world It's great exposure And it can kickstart a career in photography So Stella and Alyssa Get it together Taylor Don't hide I'm still waiting for your entry too And yes Max I see you pretending not to see me Ok Allora Finita questa Prima piccola parte Ok Possiamo guardare Usare il computer Non mi dire Possiamo lavorare Ah no Ok Possiamo soltanto guardarla Questa Non so se questa è la È l'amica Che ci ha Chiesto di vederci E va Ok Vi ricordo Ragazzi Che potete interagire Quando volete Con lo streaming Magari lasciando I vostri messaggi E Su Twitch Ovviamente E Leggerò Risponderò E potete chiedere Quello che volete Dunque Che ne so Magari giocare con me Dami consigli Perché Questo gioco Lo permette Dunque Fatevi avanti Sì Anche le sue libri di scuola sono rilassati, non credo che lei abbia fonte di me in classe, è che lei è 15 anni? Questo è sicuramente dove le nostre camere vanno al cielo. Oh man, hanno questi suoi ultrasonici! E guarda quel rangefinder vintage! Cosa? Ecco, un po' troppa amicante questa col professore, eh? Non va bene. Questo è ridicoloso. Io sempre mi sono troppo e nervosa al secondo mister Jefferson. Ogni volta che guardo a Victoria, mi sento che lei parla di me. Excuse me, mister Jefferson, posso parlare con te per un momento? Sì, scusami. No, Victoria, scusami. Non dovrei lasciare un'altra fotografia di future stars evitare l'altra foto. Dove ho bisogno? Non credo che sia così grande. Max, sei un fotografo migliore che un lato. Ora, sai che è un ragazzo di ascoltare qualche vecchio ragazzo. Ma la vita non ci aspettare per te giocare. Tu sei giovane, il mondo è il vostro, bla bla bla, certo? Ma hai una donna. Tu hai il fervo per prendere le immagini. Per farmiare il mondo solo da come ti envisioni. Ora, tutto che ti necessitano è la coraggio di share il tuo gift con altri. E' quello che separa l'artista da l'amatico. Tu non puoi mai vedere l'amatico qui. Questo è il faro che abbiamo sognato prima, dunque. O meglio, pensiamo di averlo sognato, ma... A quanto dice lei, era molto veritiero come segno. Come sogno, scusate. Sì, qui c'è la TV. Dio, anche se ha il miglior plasma HDTV per un monitor di classe. Non mi aspettare per guardare più documenti. Qui c'è il poster per il contesto. Il signor Jefferson mi aspettava di entrare. Perché? Non so se sono pronta per i miei 15 minuti di infamia. Daremo modo di far vedere che siamo i migliori, allora. Lo amico questo, ragazzi. È così f***o caldo. È così f***o caldo. Sia di dialogo, sia di interazione con gli oggetti. Adesso, ad esempio, possiamo guardare gli altri. E possiamo giocare durante la sigla iniziale. È bellissimo. Non mi è mai capitato. Artisticamente lo trovo veramente, veramente interessante, ragazzi. Dunque, buono il mio proposito. Oh, intanto salutiamo la prima persona che ci commenta, che ci scrive. Shinobi, dice questo titolo promette veramente bene. E sono assolutamente d'accordo con te, Shinobi. Intanto ti saluto. Già che ci sei, Shinobi, dimmi se si sente bene l'audio. Perché sto usando microfono da cuffia. Dunque, non vorrei che faccia un po' di rientro con l'audio delle cuffie. C'è Dana che parla anche con me. Penso che il suo nome è Justin. American girls like Dolly. With shiny smiles and plastic buddy. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ok. Quello ragazzo viene bullizzato. And he's a Vortex Club member. I cry some time. Questo è davvero messo, dovrei contattarli per trovare cosa posso fare. Ho detto che vada bene. Ok, contro l'inquinamento, giustamente. Non c'è il PC, ho perduto il GGM tryout e non avevo ancora l'inquinamento. Ci c'è Juliette nel mio dorme, ancora un altro Vortex Club disciple. Si vedeva a mettere che questa sigla giocata è incredibile, mentre entrava in bagno è anche finita la musica, sembrava quasi fatta apposta. Scegliamo questo bagno. No, non si può usare. Un poster, un altro. Questa è una cosa che succede spesso. Questa è una cosa che succede. Questa è una cosa che succede. Questa è una cosa che succede. Questa è stata iniziata con un sogno bizzaro. Mi fai fai fai? Questa è una cosa che succede. Qualc麽 che si sta a cercare. Perchè mai? Quando la porta si chiama, la finestra si chiama. O qualcosa di così. Ok, una farfalla dentro al bagno, su un secchio. Foto. Prima di guardare, se no scappa. Devo scattare io? No, fa da sola. Ok, vediamo un po'. Ok... ... ... Non stresce, tu è ok, ragazzi, solo... ...d'account a tre. Non ti preoccupi. Tu ha chiesto questo scuola. Se io voglio, io potrei ripetere. Tu è il boss. Quindi, cosa vuoi? Ho spero che ti guardate il perimetro, come la mia stessa dire. Ora, parliamo di business. Non c'è nulla per te. Non c'è, hai cattacca. È un'acqua di casa, non c'è. Oh, buo, 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 piccolo rich kid. Mi sape che sei che hai spettato di bambini e sottopoli. Oh, attenzione Attenzione Ah, intanto Ha bloccato il tempo, anzi ha riavvolto il tempo La mia mano, e poi sono tornata qui Ho già ho sentito questo discorso Ora Kate sta trattando di nuovo E se il telefono della Victoria Questo è vero Oh, shit Mamma, non credo questo Ok, se sto stupendo Stiamo riavvolgendo il tempo, signore e signori Stiamo riavvolgendo il tempo, signore e signori Che cos'altro potrà fare? Non lo so Ok, sinceramente non so cos'altro potrà fare Oltre a Oltre a riavvolgere il tempo Ma già mi sembra abbastanza insomma Puoi sapere come andano le cose dopo E fare le scelte giuste Per cambiare quello che sarebbe stato il tuo destino, no? Quindi posso andare in tempo Quindi posso riavvolgere il tempo Ma cosa se quella ragione non è morta ancora? Posso salvare? Perchè mi dice che posso saltare? Voglio vedere se posso rispondere giustamente alla domanda No Ma avevi sentita prima la risposta? Perchè non c'era tra le opzioni? Perchè non c'era tra le opzioni? Ecco esatto Io adesso perciò riavvolgo Ma dunque io posso riavvolgere ogni volta che voglio? Io pensavo si potesse fare il numero limitato di volte invece a quanto pare Ok vediamo un po' Dai play Play Come si fa? Ma Max Since you capture our interest in clearly one to join the conversation Can you please? Perfetto The first self The carian process invented by a French painter named Louis de Guern around 1830 Somebody has been reading as well as posing nice work max The take-re process may port Ok, è successo quello che mi aspettavo, perfetto. Allora, ripariamo un attimino con lei. Allora, riparò con lui soltanto per disturbare questa qui. Allora, riparò con noi. Premi L1 per annullare l'ultima azione riavvolgendo il tempo. Proviamo. È interessante, ok. Perciò possiamo riavvolgere semplicemente l'azione o più tempo, più cose tutte insieme. Perciò se io riparlo con lui... Vediamo un po'. Ti piace vincere facile, cara Max? Ok, adesso è ora di andare a salvare una vita. Ma sì, prima siamo andati molto più lenti e siamo arrivati in tempo, dai. Possiamo correre. Vediamo un po'. Adesso però... Ma se noi adesso uscissimo allo scoperto, in teoria... Non può. Non può. Ok, ottimo, questa... Non ho niente a romper il vedro. Sì. Sposta. Un martelletto. Un martelletto. No. No. Siamo stati lenti. Ah, ma l'ho già preso, ok. Ah, di nuovo. Ma... Avevo preso... Avevo preso il martello, maledizione. Sembra che... Si possa usare il potere tutte le volte che si vuole. Veramente comodo, sì. Direi assolutamente sì. Eh, c'ho già il... Questo... Martello? Vai. Non è stata una cosa molto carina. Più o meno è già impazzita, ma... ... 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